Inverno è una delle stagioni migliori per leggere, quindi noi ci troviamo presso la libreria immaginaria di Schiaponte per vedere quali sono le novità, quali sono i libri più letti e anche chiedere qualche perla di letteratura. Cominciamo con i libri più letti. Sì, in questo periodo sicuramente il più venduto tra le nostre proposte letterarie è il nuovo capitolo della serie delle 50 sfumature, Darker. Quindi questa volta le vicende erotico-sentimentali della coppia sono narrate dal punto di vista di Christian Grey. Un romanzo per gli appassionati del genere comunque molto atteso. Poi vedo che c'è un altro libro. Questo è il nuovo romanzo della scrittrice irlandese Lucinda Raleigh, è il quarto capitolo della serie delle Sette Sorelle. Una saga familiare che sta avendo un grandissimo riscontro in tutto il mondo e anche in Italia ha imparato a farsi amare moltissimo. Bene, allora vediamo invece quali sono le novità in libreria. Che cosa ci propone l'editoria attuale? Il romanzo appena uscito più importante è sicuramente questo di Fred Vargas, quindi la scrittrice di thriller francese, pseudonimo maschile per una scrittrice donna. Il Morso della reclusa è uscito da pochi giorni dopo un'attesa di anni e sicuramente farà la gioia di tantissimi appassionati del genere. Lei è uno dei nomi più importanti sul mercato sicuramente. Un'altra uscita importante è sempre sul genere thriller che è senz'altro uno dei generi più amati dai lettori, il genere thriller, legal thriller, con il nuovo di John Grisham, uscito anche questo da pochissimi giorni e già in vettale classifiche. Bene, allora in conclusione invece facciamo una proposta letteraria. Sì, una proposta letteraria per gli amanti della letteratura ma senza porre dei vincoli di genere. Un grande autore americano scomparso negli ultimi anni e che è già diventato un classico, Kent Arouf, Le nostre anime di notte. Ne è stato tratto un film di recente arrivato a Venezia con Robert Redford. È la storia molto delicata dell'amicizia e amore di una coppia di anziani e la potenza di questo romanzo è tutto nella scrittura. È una storia apparentemente banale che in realtà diventa universale con il giusto uso delle parole. Non c'è una parola in più, non c'è una virgola al posto sbagliato. È un romanzo che vi conquisterà e si legge in un soffio.